che sono uniti nella nostra lotta, che hanno occupato un edificio pubblico inutilizzato e che adesso formano un'unità, una cooperativa, siamo, è un corpo solo camminiamo insieme, ci formiamo insieme, ci educhiamo insieme, lottiamo insieme, mangiamo insieme facciamo tutto insieme, anche le religioni diverse si prega insieme tutto è fraternità mondiale, cittadinanza proletaria, grazie a tutti